Amministrazione giudiziaria ed è la prima volta per un'azienda veneta. Si tratta della Cubi di Somma Campania, sospettata di essere contigua ad elementi di spicco dell'Andrangheta. La misura è stata disposta dal Tribunale di Venezia. La Cubi Impianti Tecnologici si occupa di progettazione e manutenzione di linee elettriche. Un'azienda con un portafoglio clienti da 90 milioni di euro e i cui amministratori, secondo la procura distrettuale antimafia, sarebbero vicini a elementi dei clan Versace, Napoli, Albanese, Gerace e a loro volta con rapporti commerciali e di malaffare con la famiglia Giardino, affiliata alla Cosca Arena Nicoscia. Inchieste che in Veneto si intrecciano, quelle sul radicamento della criminalità, come l'operazione Taurus della procura di Venezia, che nel luglio 2020 aveva portato in carcere 33 persone e aveva riguardato anche i fratelli Versace. Lo scorso dicembre la prefettura di Verona aveva emesso un'interdittiva antimafia nei confronti della Cubi e l'amministrazione giudiziaria è stata decisa dopo nuovi approfondimenti della DIA che avrebbe documentato rapporti commerciali del socio di maggioranza Luca Cubi con presunti affiliati all'Andrangheta, come spiega il colonnello Paolo Storoni, capo della DIA del Triveneto. È un dato significativo in quanto è la conferma di quanto è stato rilevato negli ultimi tempi dagli analisti l'infiltrazione criminalità organizzata nel tessuto economico, spesso anche rilevata la connivenza e la compartecipazione di singoli imprenditori o professionisti nell'attività delle consultorie mafiose. Grazie a tutti.